I Bercettesi, l'amministrazione comunale, il sindaco sono stati invitati anche quest'anno a New York dalla Bercetto Foundation, dei nostri emigrati che hanno molto piacere di avere un contatto con le loro radici, con i loro amministratori e siamo stati invitati per la grande festa che ci sarà domenica 12 marzo a New York. Molto probabilmente partiremo il 10 di marzo e torneremo nella mattinata del 14 di marzo, un tradizionale incontro che quest'anno riveste particolare significato perché vogliamo coinvolgere i nostri emigrati sui punti dell'amministrazione comunale, sul consorzio volontario dei proprietari, sull'utilizzo delle energie rinnovabili, sul centro commerciale naturale di strada Romea, sull'albergo diffuso attraverso gli appartamenti che vengono dati in locazione ai villeggianti e sulla fattoria Bercetto. Un coinvolgimento necessario perché molti di loro hanno ancora le proprietà nel comune di Bercetto, molti di loro mantengono queste cose per avere un punto di riferimento, un collegamento con le loro terre, ma certamente avranno piacere di contribuire a rilanciare il comune di Bercetto come hanno sempre fatto ed è uno dei desideri più belli dei nostri emigrati.